ormai siamo circondati ovunque ci voltiamo da selfie della gleba uso l'espressione selfie della gleba a cavaliere fra l'ironia e la tragedia per alludere al fatto che ormai gli ultimi uomini della civiltà della tecnica ogni avvolgente sono di fatto divenuti per dirla con martin heidegger dei giocattoli in mano alla tecnica essi si illudono di essere i dominatori degli apparati tecnici che maneggiano e in realtà sono inconfessabilmente i dominati dagli apparati tecnici che stringono fra le loro mani ecco allora le schiere degli ultimi uomini che pensano di essere appagati e realizzati nella piena alienazione reificante della società omologata che si destreggiano con questi apparecchi con queste diavolerie tecniche immortalandosi come schiavi del sistema tecnocapitalistico di cui vedono solo tristemente gli aspetti positivi il sistema tecnocapitalistico che unisce in serie annoda tutti i drammi a suo tempo evocati da marx e tutti quelli ben enucleati da heidegger si caratterizzano in effetti per produrre fenomeni di eremitismo di massa ci condanna tutti a essere in piena solitudine nel bel mezzo delle metropoli sovraffollate è la condanna di robinson crusoe tutti abbiamo letto il grande romanzo di defoe su robinson crusoe la solitudine di defoe raccontata a proposito di robinson sull'isola pochi sappiamo forse che nel seguito della narrazione defoe fa dire a robinson crusoe rientrato nella megalopoli londinese che si sentiva meno solo sull'isola deserta che non in mezzo alla gente della metropoli londinese in effetti un'esperienza che quotidianamente anche noi facciamo allorché sui mezzi di trasporto pubblici in mezzo a centinaia di persone ci sentiamo puntualmente soli appunto come eremiti di massa persone che continuamente si intrattengono con i loro dispositivi tecnici e che non hanno alcun rapporto con chi a pochi centimetri di distanza potrebbe essere un una persona con cui dialogare ecco quindi il carattere tragico dell'odierna società dei selfie della gleba che sono altrettanti egomostri dilaganti nella società dello spettacolo che continuamente mettono in mostra il proprio io narcisistico anzi narcinistico essendo esso un'unione mistica di narcisismo e di cinismo con cui si fa mostra costante di sé ebbene gli egomostri della selfie generation spopolano ovunque sono gli ebeti abitatori della cosmopoli a capitalismo integrale privi di rapporti reali perennemente connessi alla rete e disconnessi dalla realtà che continuamente devono esibire se stessi per testimoniare la propria presenza chissà dove dando prova di esserci di essere lì nel lichet nunc life is now del resto ripete senza sosta la civiltà del mercato con la sua dente ideologia che l'accompagna effettivamente il nuovo carattere glamour del totalitarismo tecno capitalistico sta esattamente in questo esso nasconde le catene quanto più le rende intense e gravose il nuovo capitalismo cosmopolita e no border ci rende tutti eremiti di massa che compiono quotidianamente il gesto del selfie mettendo in il proprio io insieme sempre più valorizzandolo nella sfera della circolazione tecno capitalistica globalizzata ecco perché forse occorre ragionare serenamente su questi fenomeni tenendosi a distanza di sicurezza dal meccanismo alienante che ci induce quanto meno ce ne accorgiamo a diventare selfie della la gleba e dei gomostri la gleba e dei gomostri